Cosa serve il calzare col dito? Per far sì che quando cammino tutta la trazione vada a finire in mezzo all'aluce e di conseguenza non mi sarriccia la punta del calzare. Il calzare strofinando nel collo tende ad arricciarsi e la trazione va a finire sulla punta dei piedi. Questa cosa crea una tensione che porta ad avere i crampi. Con questo sistema la trazione finisce in mezzo all'aluce e è impossibile che mi vada a tirare le punta delle dita. Poi se voglio mi metto anche l'infradina. Ecco perché è nato questo prodotto.